tutti e insomma un piccolo albergo mi chiamo gil e nell'altra parte del mondo c'è stefani che c'è auspicesse uscini siamo qui su in questo gioco piante versus su un giugno in un'altra parte di un'altra ricca un'informazione per dire il nome del gioco tento che si chiama che mi chiede di la pranzia sono diventata per me per mai comunque il mio figlio è la persona mente vabbè il dico comunque sto dicendo questo è il quadrato con questo mambo come è vero ed ammiglia al ecco il che fatto trasparmi foto amico per inviare la battaglia come faremo il mondo la vita è la sua propria ammiglia di 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 ammiglia il dottor ecco noi gli indigni di ammiglia eccezio è un'epoca di un peggio uomo mette manico un uomo e con un uomo un uomo i pt ma non è quello che lo vedo giusto giusto la casa dopo porti il tipo poco porti il giudizio che vi è chiesto a rarare con la porta ma voi non erano pronti l'arrivo andò e il bambino a bambino a bambino a bambino a greve per favore po fanno no un'altra però non ti ti porto il senso di rostruttore per uscire non il porto a pari però non è vero di una mano allora non è un po' il ritorno il ritorno io mi dobbiamo giocare di questo non mi ho mai guardato per me non mi fa no no questo è un nome allora io voglio dire che no 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 romp no, ciao, ciao, oddio no, no, no sono proprio scicata su, teppnic comunque sto dicendo rosa cosa abbiamo fatto noi adesso cosa è successo il 16 settembre e noi, e cosa devono fare? di iscriversi ovvio, vabbè anche questo sarebbe 3-3-4-6-7-0-2-0-1 vero, anche il mio, ho una bomba dei uomo allora io ora non vedo scampo di scappone mi ha fatto per capire 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 ok 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 no 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 un bel 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 per il periodo del mio periodo del mio figlio del mio amico ma io non sono andata con me ma non sono davvero di un perchè che si è più forte attraverso e lì lì è venuto un uomo non è lì non c'è tutto la donna apposità per il risultato non c'è l'euro non c'è un po' non c'è un po' che si tratta la parola non è un po' che si tratta vero e pericolo e pericolo no 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 in atto e due a due 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 vedete il tuo lavoro per me per me non mi prende una strada di ok guardate mi proprio per me finisce il d 4 i siti percorso voi 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 cominciare a teatro da teatro da teatro da teatro da teatro da teatro da troppo capito annunzio per me perchè mi ha provato e perchè non esci lì non è vero ma le leite il primo punto per a un barbino orte che sono il tipo una parte per te mi senti o o con un po 6 sito un uomo no 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 la cassa che si era pure andata stossa a me perchè non si è così niente dai, curati per favore ok ok mettiti qua rosa non ci vedi qua forse zombo liscio il bimiclo rosa 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 spintare sto cucine sto posto tutto quanto la prima non lo trovo il cricolo eh eh cosa? i città città i città città i'm coming for you i'm coming for you for free ha ha livello 2 ok 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 come non è l'abbè 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 percorso percorso vediamo con poi il muro in modo non ho fatto percorso non ho fatto percorso di sono un po' male perché non vale però se vuoi uscire sti così perchè se lo sapete sto guardando in alto non vado eccolo no dove stefanic dove sei? non arrivo dai tecnic per presto e allora non sei se il giro che si sa guardando in alto e se dovete spararmi se dovete spararmi se dovete spararmi vabbè 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 dai 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 sed da vai a ha in fronte oputte with the look of the country that and until you find it untuk una domani 这个 koordinaria a kroko lugo quando contokio il primo il diritto è da noi ti ricordo in il corretto rumbo dove il mi sa non bene il non ci sono il pd quindi il cilindro sui battaglia di l'esterno trattato di un uomo di armi appunto buco u se questi faranno il tuo dito per ieri che sembra l'asso un po' vita un po' vita ss allora non è che se non è che dove sei oh questo l'ho visto no 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 chi mi spara da mezz'ora oh ma ma inviare il prezzo è invisibile nooo si criclo ne busco si è matrici salve 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 piaci piaci che lo è capito stai zitto è imprendibile è imprendibile è imprendibile è tutto oh lo sto prendendo io tu che non erai la mia buona no st perché è quasi morto forse non so ho detto lo vuoi fare è quasi morto no 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 ma se non è il resto il pitt non è un'altra cosa normale si è molto con le mie mani anche con le mie armi ma se non è vero non è normale no per i livelli dettagli toghi questo punto in una** io ho fatto l'armo regolare.it un paese un'altra scuola la per un paese per vedete tutti le qua con il combattimento non è stato di rouse e stefani che ci siamo in prossimo video ciao